Buongiorno, io sono Gianluca, questo è Ettore dei Maghi e come ogni anno siamo con il video del Free Comics Book Day un evento importante che porterà nelle fumetterie che hanno aderito l'opportunità di poter ricevere gratuitamente il negozio degli albi messi a disposizione dagli editori andiamo però a fare una certa... a dire alcune cose importanti diciamo allora, innanzitutto il Free Comics Book Day non è gratuito per noi fumetterie questa cosa che molti pensano, beh è gratis, no, no ci fanno comunque pagare un piccolo cadeau, è una cosa bassissima ma è il simbolo, capito? l'editore che comunque fa bella figura con il cliente in realtà a noi fumetterie non c'è ce li fa pagare invece di darceli e basta ma tolto anche questa piccola cosa che cosa avviene durante i Free Comics Book Day? avviene che nelle fumetterie si riversano persone che non è mai visto e lo so, è una cosa che capita spesso, infatti parlando anche con i colleghi è una cosa che è capitata più o meno a tutti quanti e infatti alcuni colleghi non aderiscono proprio perché è molto fastidiosa questa cosa ovvero persone che non hanno mai letto niente, non è mai visto per 3-4 anni che entrano e con arroganza pretendono questi albi gratuiti allora, questo vuol dire aver costruito una buona base con il tuo fumettaro di fiducia noi daremo le copie, come ogni anno, 3 per acquisto e soprattutto ai clienti storici, ai clienti che ci hanno supportato durante il covid che ci hanno supportato durante la crisi, che acquistano da noi online invece daremo tutto quello che chiedono perché questo è il servizio in più ed è questo quello che vuol dire coccolare il cliente che ti ha coccolato a te caso mai non ha scelto di comprare sul sito Panini per avere la targhetta d'oro ma ha preferito comprare da te è andato oltre lo sconto del 5% di Amazon comprando da te, perché può toccare, può vedere perché ha il servizio della discussione col commerciante questo vuol dire vivere la fumetteria quindi, lo so, purtroppo entreranno anche quelli che sono venuti, ok eh no, non faremo questo qua quindi, educazione prima di tutto perché comunque noi li paghiamo e il fatto che ci saranno in giro dei bagarini che li prenderanno da tutte le fumetterie che vedranno per permettere a 20 euro su internet alcuni albi verranno venduti a 20 euro e signori, sono delle brochure, cioè sono piccoli eh, sono cose brutte quindi cerchiamo di andare oltre cerchiamo di utilizzare l'offerta del Free Comics Book Day per come è stata creata ovvero per farvelo leggere